Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City, in apertura sempre l'emergenza sanitaria con il nuovo DPCM firmato sabato notte dal Presidente del Consiglio in vigore fino al prossimo 24 novembre. Cittadini divisi sull'efficacia delle nuove misure restrittive. Intanto ieri sera il governatore della Campania De Luca da Fazio stigmatizza la protesta per il coprifuoco di venerdì sera a Napoli. Sul fronte della sanità ha chiuso in queste ore il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare dove la situazione sta diventando critica. Facciamo il punto della situazione nel Vesuviano. Commosso il ricordo del dottor Mirko Ragazzon, c'è commozione nelle parole di don Raffaele del Duca, parroco della chiesa di Sant'Antonio Brancaccio, questa mattina intervistato da TV City. In chiusura lo sport con la Turris, prima sconfitta stagionale per gli uomini di mister Fabiano, c'è delusione per il Presidente Colantonio, soprattutto per la forzata assenza della tifoseria. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Chiusure di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18, nei giorni feriali e la domenica. Stop a cinema, teatri, casino, sale scommesse. Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sospese anche le feste dopo i matrimoni. Sono queste alcune delle misure principali del nuovo DPCM restrittivo firmato sabato notte al Presidente del Consiglio Conte. Il decreto resterà valido fino al 24 novembre. Una chiusura totale dei ristoranti dopo le 18, quindi. Una doccia fredda per tutti gli esercenti che da maggio ad oggi avevano investito per adattare i locali alle normative anticontagio. Sarà consentita, comunque, la consegna a domicilio. È fatto di vieto, invece, di consumare cibi e bevande per strada. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo quattro persone, se non conviventi. Serranda abbassata, nuovamente, anche per cinema, teatri e sale da concerto. Colpo di grazia per il mondo della cultura, che non ha potuto beneficiare di alcuna ripresa negli ultimi mesi a causa del distanziamento sociale e dei costanti stop agli eventi. Firmo anche per le palestre e per qualunque altra attività sportiva, direttantistica o amatoriale. Nessun divieto per i professionisti, salvando quindi il campionato di calcio. È possibile allenarsi solo da soli e dall'aperto. Per quanto riguarda le scuole, il governo fa marcia indietro dopo aver sostenuto a più riprese nelle scorse settimane la necessità di continuare le lezioni in presenza. La didattica a distanza potrà essere utilizzata anche per il 100% dei corsi in ogni istituto. Salvi invece i concorsi pubblici e privati, ma restano forti i dubbi sulle modalità in cui potranno essere svolti. A conferma di ciò, fioccano i bandi che rinviano date e calendari di concorso per mesi. Resta la raccomandazione ad uscire solo per ragioni in necessità e non invitare a casa amici e parenti. Confermata anche la possibilità per le regioni di adottare, se lo ritengono opportuno, norme più restrittive. Ed infatti non è mancata una nuova ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per adattare la normativa regionale al nuovo DPCM. Fermo quanto disposto a livello nazionale, sul territorio campano resta il coprifuoco a partire dalle ore 23. Resta quindi il divieto di spostarsi durante la notte anche restando all'interno del proprio comune. Invariato anche il divieto di allontanarsi dalla propria provincia. Le scuole restano chiuse in Campania, salvo per i bambini da 0 a 6 anni e gli asili. Cittadini di Torre del Greco divisi sull'efficacia del nuovo DPCM. Abbiamo chiesto ai torresi le opinioni sulle ultime severe disposizioni annunciate ieri dal Premier. Alcuni intervistati trovano giuste le misure adottate per fronteggiare l'emergenza, ma per tanti il ritorno alla normalità sembra essere ancora molto lontano. Nuovo DPCM, chiusi cinema, teatri, palestre, piscine. Le attività di ristorazione chiuderanno alle 18. Che cosa ne pensa? Allora io penso che comunque abbiano sbagliato a chiudere cinema e teatro perché è stato troppo un settore molto colpito. Quindi io penso che hanno sbagliato troppo. Ci sono troppi ragazzi vicino ai bar, troppe persone senza mascherine. Perciò mettiamo la mascherina. Io penso che per la sicurezza nostra tutto questo va benissimo perché la gente è scostumata, la gente non si attiene alle regole e allora ben venga che si chiuda tutto. Penso che per adesso sia forse l'unica cosa fattibile perché ciò che ha detto De Luca di chiudere tutto assolutamente non è fattibile ma perché l'economia ne risentirebbe, sarebbe completamente in ginocchio. Quindi almeno cerchiamo adesso di dare una restrizione e magari cerchiamo di limitare gli afflussi nei reparti Covid. Quindi io sono pro questa restrizione. Assolutamente non sono contro la chiusura ma nemmeno sono stata una che ha appoggiato ciò che è accaduto a Napoli. Assolutamente perché con la violenza non si ottiene nulla quindi forse queste restrizioni potrebbero servire a far diminuire questo afflusso presso i reparti. Poi vedremo tra un mese perché da quello che ho capito da questo DPCM fino al 24 di novembre. Quindi la scuola è giusta che sia in didattica a distanza adesso. Cerchiamo di utilizzare una sorta di calmiere per questo afflusso di Covid e poi vedremo. Io credo che tutto quello che il governo fa è tutto giusto perché se lo fanno lo fanno per farci stare meglio, per tentare di tagliare l'incremento dei contagi. Che cosa ne pensa invece della chiusura delle scuole? La DAD funzionerà? No, non va perché non tutti sono dotati di pc, di computer eccetera. Penso che sia un po' esagerato soprattutto per quanto riguarda i ristoranti e le pizzerie e poi per la cultura che ormai sta andando proprio. Bisogna prendere le misure però dobbiamo essere coscienti ognuno di noi a saperci comportare ma tutto questo penso che non serve tanto. Al di là del DPCM credo che la situazione sia drastica e spero che quanto prima si possa trovare una soluzione in tutti i settori e in tutti i campi. Attualmente Torre del Greco ma come tutta la provincia e tutta la regione è totalmente ferma come tutta l'Italia e si spera di andare avanti e cercare una soluzione effettiva in tempi brevi e reali. Che cosa accadrà dopo il 24 novembre? Quali sono le tue previsioni? Guardi, spero che si ritorni alla normalità ma penso che sia quasi impossibile. Penso ci voglia del tempo per maturare tutto quello che sta succedendo. Aspettiamo, vediamo, noi combattiamo. Più di questo non possiamo fare. Speriamo. Rivolte a Napoli. Per De Luca solo camorristi e fascisti. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato come ospite a Che Tempo che fa trasmissione su Ray 3 di Fabio Fazio per commentare i disordini di Napoli. Le violente proteste, sfociate in guerriglia urbana, sono iniziate per contestare la scelta del governatore di imporre il coprifuoco alle 23. Ad accendere il fuoco, anche la minaccia di De Luca, poche ore prima, di chiudere la Campania in un nuovo lockdown. Una vera esasperazione verso le limitazioni. Chiariamo anche che c'è un malessere sociale profondo che merita rispetto, comprensione, ma merita soprattutto risposte socio-economiche concrete e rapide. È probabile che le proteste siano degenerate a causa di infiltrazioni camorristiche e di ultrachi hanno approfittato per aggredire i poliziotti e mettere la città a ferro e fuoco. Nell'intervento a Fazio, il presidente ha considerato solo queste fasce estreme dei partecipanti alla manifestazione, nata per volontà di commercianti, ristoratori e rappresentanti di categoria. I protagonisti centrano ben poco con il disagio sociale, con il malessere delle categorie economiche. I protagonisti sono tre, pezzi di camorra, pezzi di antagonisti, pezzi di neofascisti e potremmo aggiungere anche pezzi di qualcos'altro. De Luca ha anche sminuito il lancio di petardi e bombe carta, definendolo la classica piedigrotta. Scassam tutta, cioè scassiamo tutto e così si sono ritrovati. Poi ha visto che alla fine c'è stata anche una festa, un po' di piedigrotta, fuochi d'artificio, petardi. È stata veramente una bella manifestazione. Continua l'aumento dei contagi nelle città del Vesuviano, a preoccupare soprattutto la situazione di Castellammare di Stabbia. Il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo sembrerebbe essere stato chiuso per l'assenza di barelle. A comunicare l'audizia è stato il sindaco Gaetano Cimmino su Facebook, che si dice già all'opera per trovare una soluzione. Intanto, nello Stabbiese sono 28 i nuovi casi di positività registrati nella giornata di ieri. Sale quindi a 264 il numero degli attualmente positivi a Castellammare, 362 dall'inizio della pandemia. A Torre del Greco sono 13 i nuovi contagiati da Covid, a fronte di 120 tamponi effettuati, tutti in forma sintomatica, registrati nella giornata di ieri. Sono 165 quindi gli attuali positivi in isolamento fiduciario, di minus 6 il numero degli ospedalizzati. Con un post su Facebook, il sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto ha annunciato che il numero di attualmente positivi è passato a 240, a fronte di 1.614 tamponi eseguiti da inizio ottobre. Buonaiuto ribadisce inoltre la necessità di azioni concrete e tempestive per tutte le attività penalizzate dal nuovo DPCM. Registrati nella giornata di sabato 24 ottobre, 14 nuovi casi a Portici, a fronte di 360 tamponi. A comunicarlo è il sindaco Enzo Cuomo che annuncia come i tuttora positivi siano 320, di cui 3 ospedalizzati. Dati aggiornati al 24 ottobre anche a Torre Annunziata, con 41 nuovi casi di contagio registrati in 48 ore. Sale a 95 il numero degli attualmente contagiati in isolamento fiduciario, 4 sono invece i positivi in regime ospedaliero. Dolore per la scomparsa del dottor Mirko Ragazzon. Il medico di base e diacono della parrocchia di Sant'Antonio Brancaccio è la prima vittima della seconda ondata della pandemia da Covid-19 a Torre del Greco. L'uomo, di 61 anni, era un pilastro della comunità. Abbiamo incontrato Don Raffaele del Duca, parroco di Sant'Antonio Brancaccio, per ascoltare il suo ricordo del diacono ed amico. Lui veniva sempre alla messa delle undici come diacono, quindi leggeva lui il brano del Vangelo, poi stava vicino a me per assistere alla messa, per celebrare la messa. Stavamo insieme sull'altare, quindi è stato impressionante ieri non vederlo vicino a celebrare. Mirko è stato un grande, ma non lo dico soltanto io. Se sentiamo in giro, tutti lo ricordano molto bene, con affetto, grande disponibilità, grande sensibilità, sia dal punto di vista professionale, perché lui era medico, e dal punto di vista come padre, come marito, come persona molto religiosa che ci teneva a tutte queste cose. Quindi viveva bene la sua vita cristiana, la sua vita lavorativa, era molto impegnato in tutto, e quindi ci manca veramente tanto. E' riuscito a sentire la famiglia? Come sta in questo momento? Stanno, è comprensibile come possono stare. Comunque loro stanno molto sereni, perché poi lui ha educato molto bene la sua famiglia, quindi un grande papà, un grande uomo di fede, e quindi ha educato molto bene, quindi sono molto sereni. La figlia ha detto una cosa molto bella quando è finito Mirko, ha detto papà tu sei stato un dono per tutti quanti noi, quindi ha recepito bene l'importanza del papà, dello sposo, del medico e dell'uomo di fede che ha insegnato tutti questi valori alla propria famiglia in modo particolare. Cordoglio anche da parte dei colleghi medici. Sabato mattina molti dottori in camice bianco hanno aspettato fuori la chiesa il passaggio della salma del collega. Hanno fatto un corteo addirittura quando lui è sceso dall'autostrada e davanti al Bottazzi hanno aspettato che giungesse la salma nella macchina e poi l'hanno scortato fino fuori dalla chiesa, dove c'è stato un momento di celebrazione. Vogliamo mandare un messaggio di speranza ai fedeli in un momento così difficile? Mirko ha insegnato questo a tutti quanti noi, che lui fece il cammino per il diagonato proprio avendo di mira una cosa, il servizio. E quindi il servizio l'ha contraddistinto, tanto è vero che per questo servizio ha dato tutto se stesso e ha dato la vita. Quindi per mettersi alla pari, per imitare nostro Signore Gesù Cristo, che non è venuto per essere servito ma per servire, Mirko ha voluto fare pure questo, ha voluto fare questo. Di fatti iniziò il suo cammino verso il diagonato con questa prerogativa di servire Dio ma di servire anche gli altri, di servire la comunità. Quindi l'unico motivo di speranza per tutti quanti noi è questo, che adesso noi siamo convinti che lui viene, secondo il brano del Vangelo di Luca, che io lessi fuori alla Chiesa sabato scorso, il Signore che dice alla fine dei tempi io farò mettere a tavola i miei servi e io stesso passerò a servirli. Quindi Mirko ha fatto questo, ha servito tutti quanti noi, ha servito la comunità, ha servito i suoi pazienti e quindi noi siamo certi che il Signore già l'ha messo al suo banchetto a celebrare con lui la festa di nozze dell'agnello, come dice il libro dell'Apocalisse. Primo K.O. per la Turris che crolla in casa 3 a 0 con la Paganese e scivola quinto posto in campionato a pari punti con la Juve Stabia. Per la sfida Mr. Fabiano conferma il 4-3-1-2 con qualche variazione, schierando D'Ignazio sull'out di sinistra, Tascone per Signorelli a centrocampo e attacco confermato con Romano a supporto di Pandolfi e Giannone. Nel primo tempo è la Paganese a fare la partita, portandosi in vantaggio al nono minuto e raddoppiando al ventesimo anche grazie ad un'incertezza di Abbagnale. Nella seconda frazione di gioco i Corallini, sistemati in campo nel 4-2-4, riescono a rendersi molto più pericolosi ma senza incidere sotto porta. Nonostante un buon secondo tempo, è la Paganese a chiudere il match al quarantesimo con una ripartenza che porta buona volontà alla rete. Al termine della sfida è Mr. Fabiano ad esprimersi per primo affermando di aver approcciato male il primo tempo e di non aver avuto la giusta cattiveria. Alle parole dell'allenatore bianco-rosso sono seguite quelle del presidente Colantonio, amareggiato dalla sconfitta e dispiaciuto per la partita giocata a porte chiuse. Inizialmente il match con la Paganese avrebbe dovuto ospitare lo stesso numero di spettatori previsto per la precedente sfida con il Monopoli, ma le difficoltà nella costruzione di una zona a prefiltraggio considerata non idonea da parte del gruppo operativo di sicurezza hanno reso impossibile l'accesso dei tifosi allo stadio, in quella che sarebbe stata l'ultima domenica con la presenza del pubblico prima della validità delle nuove restrizioni. Grazie a tutti per la cortese attenzione, vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it oppure chiamare al numero 340 65 614 84. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti per la cortese attenzione, vi ricordo che per la cortese attenzione, vi ricordo che per la cortese attenzione.